Sono partiti questa mattina i laboratori culturali del comune di Zumpano in provincia di Cosenza rivolti prevalentemente agli studenti delle scuole primarie. L'idea, pensata dall'amministrazione comunale, consiste in una serie di incontri tematici proprio tra gli studenti ed alcuni autori di libri. Nell'ambito di questo laboratorio pensato, ideato dal comune di Zumpano, che cosa racconterà questi bambini? Io racconterò come utilizzare la fantasia. Perché i bambini e i ragazzini leggono molto e da questo possono capire come ciò che hanno letto può diventare anche una loro creazione. Cioè la fanno propria e può diventare anche lo spunto per una loro creazione, un raccontino, una frase e così via. Però allo stesso tempo devono essere stimolati. E certo, devono essere stimolati. In questo caso dall'insegnante di scrittura e di lettura, ma in classe dall'insegnante di lettere o anche dagli altri, perché uno può prendere il spunto per un racconto anche dall'insegnante di tecnologia che magari parla del computer o dall'insegnante di matematica che parla di Pitagora. E poi ci vuole alle spalle la famiglia. La famiglia è quello che dà il supporto più grande. Appunto quanto è importante il supporto della famiglia? La famiglia è fondamentale. I ragazzi sono portati, i bambini in modo particolare, a imitare ciò che fanno i genitori. Allora, se in famiglia si legge, il ragazzino legge. Se in famiglia si fa solo uso del telefonino, il ragazzino fa solo uso del telefonino.